Gerardo Scotti, cittadino di Agropoli, ambientalista e responsabile del progetto Genesi per la riqualificazione del fiume Testene, gestisce il parco fluviale agropolese con il patrocinio del comune di Agropoli. Il progetto mira alla tutela e conservazione della fauna e della flora, alla protezione e tutela degli ambienti naturali, delle acque e del suolo. Per monitorare il tutto, si sta lavorando per l'installazione di telecamere e di videosorveglianza su alcuni punti di accesso al fiume che permetteranno un controllo costante sulle aree interessate. L'impianto di videosorveglianza sarà indispensabile per prevenire i malintenzionati, oltre ad avere il compito di monitorare il corso d'acqua. Il progetto prevede la salvaguardia dell'ecosistema mirando al ripopolamento della specie che un tempo viveva nel fiume. Ha trovato una clamorosa ospitalità negli ambienti fluviali del parco, anche la lontra, animale protetto e simbolo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, specie protetta e in via di estinzione. In questi giorni stiamo cercando di mettere delle fototrappole vicino alle tane, dichiara Gerardo Scotti. Dobbiamo andare di notte quando gli animali escono, quando tornano devono trovare le fototrappole e tenerle attive di giorno in modo da riprendere qualcosa, perché quando ci avviciniamo scappano nelle tane e non si fanno vedere. Purtroppo in questo momento non abbiamo gli strumenti adatti per monitorare questi animali, ma ci stiamo attrezzando. Alcuni di questi cuccioli non raggiungono la maturità per ragioni a noi sconosciute. In ogni gruppo c'è un maschio alfa che ha più femmine a disposizione, ma le nascite sono molto rare e non abbiamo studi su questo fenomeno. Stiamo cercando senza disturbare gli animali di capire qualcosa in più, ma è tutto estremamente complesso e c'è bisogno di tempo e grande dedizione. Gerardo Scotti si occupa della manutenzione, riqualificazione e della cura delle specie di animali presenti nel fiume. Cerca di monitorare la situazione e di controllare la signora dei fiumi, che risulta essere l'ultima scoperta. Inoltre, afferma di vedere spesso anche una volpe che si reca al fiume. L'ambientalista è un attivista sempre presente sull'area protetta e crede fortemente in questo progetto che mira nel recupero di una zona naturalistica importante, che potrà fungere da trattore turistico per la città di Agropoli.